C'è anche la Biblioteca della Regione Piemonte tra le 4.000 biblioteche pubbliche italiane e straniere aderenti al Media Library Online, prima rete in Italia dedicata al prestito digitale. Attraverso il portale si possono consultare gratuitamente ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione e archivi di immagini. Gli iscritti alla Biblioteca della Regione potranno utilizzare il servizio inviando una mail a biblioteca.cr.piemonte.it